Marcy mi dà questi cerotti e dico che cos'è sta roba? Però vabbè, qualsiasi cosa tu provi la voglio provare anch'io. Ok, allora li metto, dopo due o tre giorni mi dico oh mio Dio, che mi succede? Avevo una depressione all'epoca e non ero per niente felice, avevo un sacco di pensieri negativi, un periodo molto scuro. Dopo due o tre giorni chiamo Marcy e dico wow, sono così felice, che cosa c'è in questi cerotti? Non mi arriva neanche un pensiero negativo e lei mi fa eh sì, fantastico, vero? E così ci chiamiamo un po' avanti e indietro e un giorno la chiamo e stavo piangendo e mi dissi oh, che credo che succede? E mi resi conto che appunto andavo un po' su e giù, un po' su e giù, perché i cellule steminali stavano funzionando, stanno assolutamente funzionando e hanno subito influito sulla mia depressione. Dopo qualche giorno mi sento bene, ho energia, ti dà un benessere generale, totale. È come se una nuvola nera se ne fosse andata e continuiamo a chiamarci. Hai sentito questo? Hai notato quello? Sono nove mesi che metto i cerotti, la pelle liscia. Proprio il giorno d'oggi qualcuno mi fa ah ma Pam la tua pelle è così liscia, così bella. Sono più concentrata anche, più focalizzata. Non vado sovente in ufficio ma quando sono in ufficio tutto è organizzato, pulito e quasi non mi riconosco. Sono anche più equilibrata, più centrata. Quando ti senti più centrata tutto sembra più facile. Ho qualche volta pensieri negativi? Sì. Ma mi durano per le settimane? Assolutamente no. E quindi ho più equilibrio, sono più centrata. La mia migliore amica mi fa ma dove sei andata? È come se la Pam di una volta fosse ritornata. Quindi le cellule staminali sono tutto per me. Lasciatele fare ciò che ne devono fare. Sono nove mesi che le metto e funzionano su un sacco di cose. Sono molto molto contento.